No, non c'è nessuno, noi stiamo adesso facendo un po' una rassegna delle nostre forze in campo, dopodiché il resto si vedrà in Parlamento. Però Saldini apre alla possibilità di fare un governo con tutti i tranni col PD, quindi vuol dire anche col 5 Stelle. Vedremo che noi dobbiamo andare in Parlamento partendo dai nostri numeri, non sono sufficienti, quelli dei 5 Stelle sono ancora più bassi, del PD non parliamo, dobbiamo cercare in Parlamento dei consensi in tutte le direzioni ma sulla base del nostro programma, su questo siamo tutti d'accordo, però oggi c'è una situazione di chiara difficoltà del Paese, quindi bisogna avere calma e sangue freddo. Forse anche il fatto che c'è un contrasto all'interno del centro-destra? No, il problema è che nessuno ha la maggioranza, noi abbiamo più voti di tutti, più dei 5 Stelle e più di altri, quindi noi dobbiamo tentare di formare un governo, nessuno ha la maggioranza, altrimenti il problema sarebbe già risolto. È una situazione impegnativa, difficile, dove chi ha più numeri, il centro-destra deve fare un tentativo e questo è, dopodiché nessun altro, siamo unitissimi. Però Berluspie vuole fare col PD il tentativo, no?